Questo è il nostro van, il Volkswagen T6.1 California Ocean. Il nostro tuttofare compatto, pratico ed estremamente funzionale per il campeggio, ideale sia per gli spostamenti in città che per i viaggi immersi nella natura. Per un massimo di 4 avventurieri, per viaggi in famiglia, tra amici o in coppia. Il nostro van offre tutto ciò che ti serve per un viaggio in campeggio. Qui potrai cucinare, mangiare e trascorrere il tuo tempo libero in tutta comodità, sia nell'elegante area salotto, sia nei due letti matrimoniali, nella parte inferiore del van o nel tetto aprile, o semplicemente riposarti nella natura davanti al tuo camper. Avrai un'ampia libertà di movimento e spazio di stivaggio, una finestra panoramica ed una fantastica sensazione di spazio e libertà. Il nostro Bulli è dotato di cambio automatico, telecamera di retromarcia e molti pratici dispositivi di sicurezza. Naturalmente è possibile guidarlo con la patente di guida di classe B. Su strada potrai godere del massimo livello di comfort di guida. Che aspetti? Parti per la tua vacanza all'insegna dell'avventura! Grazie per la visione!